benvenuti in questo nuovo video per i servizi di fan connect questa volta vedremo come dall'interfaccia cliente aggiungere una macchina alla propria flotta basterà avere il telaio della macchina e sapere quale centro di assistenza sarà il referente per la macchina in oggetto una volta fatto l'accesso dalla pagina principale abbiamo una funzione dedicata per aggiungere macchine premiamo quindi su aggiungi macchina inseriamo il telaio della macchina all'oggetto verifichiamo la correttezza dei dati in particolare marchio e modello dopodiché andremo appunto a scegliere il nostro centro di assistenza di riferimento toccherà poi al concessionario andare a convalidare la nostra richiesta è importante spuntare il rinnovo automatico dell'abbonamento possiamo già vedere anche la data della prossima scadenza ed è importante che la macchina venga accesa nei giorni successivi all'attivazione una volta che il sistema si è attivato dalla nostra pagina principale cominceremo a vedere i dati relativi alla nostra macchina per rimanere sempre aggiornato visita get.connect.com verifica la predisposizione ai servizi connect della tua macchina le novità per i clienti i servizi collegati così come per il concessionario è possibile inoltre nella sezione commenti lasciare un feedback per il miglioramento del servizio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti